Ben trovati da Andrea Lazzara con le previsioni del tempo di Arpal. Stiamo vivendo una breve parentesi soleggiata in attesa di un generale peggioramento da martedì sera per l'ingresso di una veloce e fredda perturbazione proveniente da latitudini artiche. Fino a mercoledì sono attese piagge diffuse, nevicate fino a quote basse, eventi settentrionali di burrasca e disagio fisiologico per freddo. Giovedì breve pausa soleggiata in attesa di un secondo esteso peggioramento che potrebbe insistere sulla regione fino al prossimo fine settimana. Il dettaglio oggi lunedì 30 novembre è bel tempo su tutto il territorio salvo addensamenti sull'imperiese e l'interno di Ponente dove non si escludono deboli isolate piogge tra il tardo pomeriggio e la sera più probabili lungo la costa in prossimità del confine. Venti moderati settentrionali sul centro Ponente con raffiche fino a forte in prossimità degli sbocchi vallivi, ventilazione debole di direzione variabile altrove. Mare poco mosso localmente mosso sui capi esposti di Ponente e a largo. Temperature massime stazionarie lungo la costa tra 14 e 18 gradi nelle zone interne tra 8 e 13 gradi. Domani martedì 1 dicembre al mattino nuvolosità irregolare con bassa probabilità di precipitazioni. Dal pomeriggio genera l'aumento delle nubi con deboli piogge inizialmente sui settori centrali della regione. In successiva estensione alle restanti zone tra la sera e la notte. In nottata precipitazioni diffuse anche a carattere nevoso fino a quote collinari nell'interno di centro Ponente. In ulteriore abbassamento nelle ore successive con spolverate possibili anche a bassa quota intorno ai 3-400 metri. Venti al mattino deboli dei quadranti orientali. In serata rapido rinforzo da nord sul centro il Ponente fino a Burrasca nella notte con raffiche fino a 80-90 km orari. A levante venti forti da nord-nordest. Mare poco mosso per gran parte della giornata. Rapido aumento a largo tra la sera e la notte fino ad agitato per onda da nord e stirato sotto costa. Temperature minime in diminuzione lungo la costa tra 8 e 11 gradi nelle zone interne tra 2 e 4 gradi. massimo in diminuzione lungo la costa tra 11 e 14 gradi nelle zone interne tra 7 e 9 gradi. Dopodomani mercoledì 2 dicembre molto nuvoloso coperto con deboli precipitazioni diffuse su tutta la regione. Al mattino più intense sul centro Ponente dove risulteranno a carattere nevoso fino a quote basse nelle zone interne 2-300 metri. Senza escludere qualche fiocco di neve o neve mista a pioggia anche lungo la costa tra il Savonese e il Ponente genovese. Quota neve più elevata altrove con accumuli al suolo in collina anche sull'interno di Levante. Dal pomeriggio attenuazione delle precipitazioni con graduale miglioramento in serata 20 fino a Burrasca da nord sul centro Ponente. Raffiche fino a 70-80 km orari. Forti settentrionali a Levante sull'estremo Ponente. Generale lieve attenuazione in serata. Mare fino ad agitato per onda da nord a largo. Molto mosso per onda da nord-est a Ponente. Poco mosso stirato altrove. Temperature minime in diminuzione lungo la costa tra 3 e 7 gradi nelle zone interne intorno a 0-1 grado. Massime in diminuzione lungo la costa tra 6 e 9 gradi nelle zone interne intorno a 4-5 gradi. È tutto. Seguite gli aggiornamenti su arpal.liguria.it, sulla pagina Facebook di Arpal e sul profilo Instagram dell'agenzia. Risentirci!